Nella stanza del sindaco da circa 40 anni c'è un piccolo bagnetto che tutti i sindaci hanno utilizzato per i loro bisogni. Però lui ha pensato bene di trasformarlo e di realizzare una doccia, solo che per fare questo ha speso 1.616 euro. In più poi si è fatto fare uno scaldino, si è fatto mettere uno scaldino altri 57 euro, più la vetturazione. Un box doccia da oltre 500 euro, compreso IVA, più mattonelle da 40 euro al metro quadrato. Insomma una spesa che ancora una volta conferma che il sindaco ha scambiato il comune per un banco. Ma la cosa più grave è un'altra, che mentre i cittadini, i pensionati al minimo, i disoccupati devono fare i salti mortali per pagare l'acqua, lui si fa le docce consumando metri cubi e metri cubi di acqua a spese del comune, non paga niente.